Ciao a tutti vediamo come utilizzare Excel online gratis quindi se non avete Microsoft 365 acquistato potete però utilizzare gratuitamente Excel online vi basta avere un account Microsoft se non sapete come si fa ho un altro video sul canale vi basta scrivere Excel online da qua potete premere su Office Live però in questo caso vi manderà direttamente a Office se siete già collegati oppure vi metto sotto il link in descrizione Microsoft Office online gratuito vi metto sotto poi tutti i link vedete qua o ci iscriviamo tanto è gratuito oppure accediamo io ho già fatto l'accesso perciò se premo guardate un po' mi butta dentro ad Office e a me basta poi selezionare vedete qua Excel qual è la differenza tra la roba online e quella acquistata ci sono poche funzionalità di differenza in realtà per quello che dobbiamo fare a certi livelli può non essere un problema utilizzare tutta la parte online perciò se io creo una nuova cartella di lavoro eccoci qua che lo sta aprendo e noi siamo su Excel esattamente come se fosse Excel acquistato vedete Office 365 per il computer quindi proviamo a fare due cosine random mettiamo 3 e 5 ci mettiamo qua sotto funzionalità somma e vedete che ci ha dato 8 la differenza di funzionalità è veramente minima perciò se al momento non avete intenzione di acquistare Microsoft 365 per PC potete tranquillamente utilizzarlo online questo è quanto se avete bisogno di altri tutorial lasciate sotto un commento alla prossima ciao ciao